Ben ritrovati voi tutti cari amici dal vostro Nicola De Lucia, continuiamo a parlare di pallavolo maschile sempre ai Champions League giornata numero 5, questa volta ci trasferiamo in Portogallo dove ieri sera la Sir Safety Perugia ha superato il Benfica per 3 a 1 con i seguenti parziali 24-26, 21-25, 25-22, 17-25 successo della squadra italiana quotato abbastanza scontato 1-11, 1-09 in classifica Perugia nel gruppo D è già qualificata per i quarti di finale della fase seconda fase ed eliminazione diretta dalla competizione continentale, quinto successo di fila come è anche stato come ho detto poco fa per Macerata, 15-7-20, 3 persi 15 punti ultima partita di Perugia che ci sarà il 19 febbraio in casa contro il Verba Varzawa, credo dovrebbe essere una squadra polacca che ha 6 punti con 2 vinte e 3 perse ma io direi diciamo che potrebbe anche se in minor quotazione fosse avere anche una piccola speranza il Benfica che il 19 renderà in casa del Torse, credo squadra francese e come ho detto 6 punti quindi ricapitoliamo la cosa più importante, la Sir Safety Perugia supera per 3 a 1 il Benfica, ottiene il quinto successo di fila in altrettante partite 15 punti, 15-7-20, 3 perse la prossima partita la giocherà tra le mura amiche contro una diretta concorrente per avere un altro piazzamento nei quarti di finale della competizione ciao a tutti